Un jet da combattimento statunitense ha abbattuto ieri un oggetto non identificato, sul lago Huron, su ordine del presidente Joe Biden. Questo è il quarto abbattimento di questo tipo in otto giorni. È l'ultimo attacco militare in una straordinaria catena di eventi sullo spazio aereo degli Stati Uniti, senza precedenti. Da allora altri tre simili oggetti sono stati abbattuti sul Canada e sulla Alaska. I funzionari del Pentagono hanno detto che non rappresentavano minacce alla sicurezza, anche se si sapeva poco di loro. Ma adesso è colpa di scena. La Cina accusa gli Stati Uniti di aver fatto volare illegalmente palloni ad alta quota nel suo spazio aereo più di dieci volte tal gennaio 2022, mentre le tensioni bilaterali divampano nelle ricadute di un pallone cinese che è stato abbattuto da aerei del combattimento americano dopo aver viaggiato attraverso gli Stati Uniti continentali. L'accusa fatta dal Ministero degli Esteri cinese, senza prove, arriva meno di un giorno dopo che la Cina ha detto che si stava preparando ad abbattere un oggetto non identificato che volava vicino alla sua costa orientale. Siano essi cinesi o americani non si sa nulla ancora sulla natura e finalità di questi palloni e loro contenuti. Finora tutta questa storia assomiglia ad un tipico romanzo di fantascienza con gli UFO, oppure nasconde segreti di spionaggio da guerra freddo. Aspettiamo che ci rivelino la verità al riguardo.